A fare dietro front sono i petrolieri. Le tremiti sono salve perché la PetroCeltic rinuncia al permesso di ricerca di idrocarburi. Sono passati nove anni dalla presentazione dell'istanza e ha perso l'interesse minerario su quel possibile giacimento. Interesse rimasto inalterato per gli altri titoli non rinuncia insomma alle altre concessioni. Scende il prezzo del petrolio e la multinazionale ricalibra le sue attività di esplorazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ne prende atto e la titolare del di Castero Federica Guidi non cambia registro. Spero che adesso anche grazie a questa scelta commentato venga messa una volta per tutte la parola fine ad alcune strumentalizzazioni sul tema delle attività di ricerca in mare che erano infondate già prima e che lo sono a maggior ragione dopo la decisione della PetroCeltic. Il suo vice Teresa Bellanova pugliese della provincia di Brindisi le fa eco. Il governo non ha mai avuto intenzione di svendere il nostro mare. Ha lavorato su questo argomento con serietà e una grande attenzione al patrimonio ambientale del nostro paese finito di distribuire torti e responsabilità e il momento ha detto che le istituzioni lavorino tutte in questa direzione. Ambiente, sviluppo e lavoro devono poter coesistere. Il governatore Michele Emiliano isulta in un videomessaggio non risparmia una stoccata al governo. Una grande vittoria. La PetroCeltic ha rinunciato al permesso di ricerca petrolifera a largo delle Tremiti. Il nostro modo ragionevole, intelligente, l'unità del popolo pugliese col popolo molisano, col popolo italiano, con riferimento a questa assurda idea di andare a cercare il petrolio nel mare più bello d'Italia ha indotto, anche assieme ad una riflessione economica, l'inutilità di una ricerca petrolifera che non avrebbe dato nessun vantaggio economico. Ha indotto la PetroCeltic a fare ciò che altri non hanno avuto l'intelligenza di fare, cioè a lasciar perdere. I notriv capitanati da Raffaele Vigilante non abbassano la guardia. Che l'attenzione resti alta lo conferma anche il vicepresidente della provincia di Foggia, Rosario Cusmai, che aveva promosso la manifestazione a Palazzo Dogana del 31 gennaio. Sono soddisfatto che comunque il territorio ha dimostrato per l'ennesima volta un segnale, ha dato un segnale di compattezza. In modo trasversale tra le istituzioni ci si è stretti attorno al problema e si è cercato tutti insieme di affrontarlo e di risolverlo. Chiaramente questa cosa della PetroCeltic non ci fa abbassare la guardia perché non ci dimentichiamo che esiste una graduatoria rispetto alle società che hanno chiesto di fare queste indagini, perciò l'attenzione resta alta. Grazie. Grazie.